ragazzi abbiamo un altro spacchettamento di spada scudo col profusione i pacchetti mi dà sempre il mio nonno apriamo aspettate ho scoperto una cosa ho fatto così codicino per voi 1 2 3 4 1 2 ghiaccio garbo d'oro scambiato l'incrociato col profusione berrum energia elettro draga pulto col profusione un altro scambiato l'incrociato schitti valings cito vullaby e poi da raga non lo so quale la carta vabbè ok va bene ragazzi ci vediamo nel prossimo spacchettamento ciao